Ancora un K.O. pesantissimo per un Asieco che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Lago Negro. Non solo per il 3-0, ma anche e soprattutto perché si resta in coda con un sol punto e a sette lunghezze della salvezza, visto l'exploat esterno del Brescia a Siena, e in arrivo c'è la matricola terribile del Motta di Livenza, di Gamba e compagni, come uscirne. In A3, invece, torna in vetta solitaria l'Abba Pineto, il suo sesto successo pieno in sette gare e grazie al 3-0 nello scontro al vertice tra Marchingiane, Macerata e Grottazzolina. Ma la squadra di Rovinelli, va detto, non ha brillato, ancora in cerca di un rendimento che sia più costante e più consono alle sue potenzialità. Vanno comunque ringraziati Link, 28 punti, e Catone in ottima serata. In A2 femminile pausa per l'altino, in B maschile piange un'alba sempre più in difficoltà di classifica, zona rossa. Ride, invece, sorride un Paglieta che vince in trasferta e si pone nelle zone medio-alte in assoluta sicurezza. In B1 femminile cade dopo due vittorie la Teatina, che parte benissimo a Civitavecchia, ma poi, ancora senza la leader Corradetti, imbocca un percorso sballato tra inesperienza e approssimazione difensiva. In B2 ancora un colpaccio del Teramo, che liquida pure il Bari e torna un'attacca dalla capolista Corridonia. E mentre il Gada Pescara 3 perde un'occasione propizia per rinfinarsi verso l'alto, un A3 col tosto e marchio letrani nelle immagini, il derby tra Danunziano e Ceteas e appannaggio delle pescaresi, che meritano ampiamente un indiscutibile 3-1, che alle giovanissime di Mister Di Tommaso spalanca le porte verso lì di più tranquilli, inguaiando purtroppo le cugine montesilvanesi.